e permettetemi di dire con un po' più di sogniero che chi se ne va da qui commette un errore perché c'è la forza per reagire io quindi simbolicamente, anche se lo conoscete perché l'avete scritto pensato e avete lottato per questo testo fino alla sottoscrizione ma è un atto simbolico di un passaggio di testimone per scrivere una nuova pagina di storia della produzione e della storia produttiva di questo parte del territorio questa volta abbiamo vinto e come io mi presi l'impegno lì in un momento drammatico di dirvi vi giuro che non vi lasceremo mai soli ora vi posso confermare, vi giuro che ci vedremo quando inizieremo la nuova commissione grazie!